Ultima sera col coprifuoco alle ore 22. Da domani, mercoledì 19 maggio, si potrà uscire di casa fino alle 23. Dal 7 giugno il coprifuoco verrà spostato a mezzanotte, dal 21 giugno verrà definitivamente abolito. Si potrà insomma uscire di notte senza vincoli orari, una libertà che veniva limitata ininterrottamente da novembre 2020. E' questa la novità più impellente che si materializzerà da domani nel calendario delle ripartenze deciso lunedì sera dal Consiglio dei Ministri. Un calendario che da sabato 22 maggio vedrà il passo successivo nella riapertura dei negozi all'interno dei centri commerciali anche durante il weekend. Dopo proteste che duravano dal periodo prenatalizio, queste attività commerciali possono tornare alla normalità. Lunedì 24 maggio riaprono invece le palestre, una delle categorie più penalizzate in assoluto. Una riapertura anticipata rispetto alla precedente tabella di marcia prevista per l'1 giugno. Palestre sì, spogliatoi pure, ma docce ancora a casa. Lo scorso weekend hanno invece riaperto le piscine all'aperto. Dall'1 luglio riapriranno anche quelle al chiuso. 1 giugno e 1 luglio sono anche date da cerchiare in rosso per gli eventi sportivi. Dal 1 giugno torna il pubblico nelle competizioni all'aperto con una capienza degli impianti non superiore al 25% e per un massimo di 1.000 spettatori. Dal 1 luglio spettatori anche nelle gare al chiuso, sempre col limite del 25% ma con un massimo di 500 spettatori. Si ampliano anche i servizi per bar e ristoranti. Dal 1 giugno si potrà consumare anche al bancone del bar. Dalla stessa data si potrà anche pranzare e cenare al ristorante al chiuso. Torna a rimettersi in moto anche la macchina delle cerimonie. Dal 15 giugno tornano i banchetti di matrimonio ma con qualche limitazione. Si potrà infatti accedere alle feste solo con un certificato di avvenuta vaccinazione o con un tampone negativo al covid-19 effettuato nelle 48 ore precedenti alle cerimonie. Restano ancora escluse dal calendario di ripartenza le discoteche. Per quelle non c'è ancora una data.